Come fa LEGO ancora a stare in cima? È che dimentichiamo quanto fosse assolutamente improbabile che dei mattoncini plasticosi diventassero un gioco super fenomenale. LEGO, principio numero uno è che i valori sono senza prezzo. Noi mettiamo i mattoncini, voi mettete le idee. Voi mettete le idee. Qu'è un altro che? Non c'è nessuno.